Piacere di Mori, il presidente della comunità di Valle di Rovereto, ci sono assessori anche del comune di Ledro, avevo visto. Ciao, piacere. I dati ci confortano. Ci sono le macchine che scendiamo giù il cantiere, ognuno va alla macchina. E' un po' di titoli, è un po' di titoli. E' un po' di titoli. E' un po' di titoli. Facciamo un attimo anche per i sindaci. E' un po' di titoli. 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 E' un po' di titoli.